Egrigento ricorda Salvatore di Benedetto, che è stata una personalità importante della storia della provincia di Egrigento. Lui poi è meno conosciuto come poeta e forse anche poco conosciuto come uomo, anche da anziano, voglio dire, da una persona a 90 anni accanito che si faceva le sfilate del primo maggio o che andava alle riunioni, che parlava in tutti i comizi del suo partito per questa passione politica forse finale meno conosciuta. Ma lui è stato anche un protagonista della storia italiana, della storia della Resistenza, perché ha avuto durante la Resistenza un ruolo fondamentale, che era quello intanto di fare il proselitismo nell'Italia del Nord, a Milano, e di mantenere i collegamenti tra tutti i gruppi della Resistenza. Abbiamo voluto che fosse al Teatro Pirandello, noi ringraziamo Marco Zambuto perché ha mostrato questa grande sensibilità su questa nostra iniziativa concedendo il Teatro Pirandello. Le conclusioni saranno tratte da Massimo D'Alema, il Presidente D'Alema tirerà le conclusioni e parlerà di Benedetto. Ha voluto i libri e quindi verrà anche preparato. Grazie Grazie Grazie